Musica Allora, nel presidio ospedaliero di Solufra ci sono diverse attività che devono essere messe a regime come quella della sala operatoria, la gestione delle liste d'attesa, delle liste operatorie che vanno molto snellite perché sono pesanti come orario di lavoro e sforano spesso nel continuum non finiscono quando sono previste perché l'intervento tu puoi pensare che duri mezz'ora, un'ora ma poi si può protrarre e quindi va tutto poi a cascata perché certo non puoi lasciare senza operare un paziente che avevi in lista operatoria, quindi c'è questo affanno nel fare queste cose quindi dovrebbe essere ridotto il numero delle persone, è chiaro riducendo i numeri a lunghi tempi ma devi lavorare in sicurezza, c'è bisogno che ci sia riservata la sala operatoria per l'emergenza e sia presente il turno per l'emergenza e il personale infermieristico che sia assicurata per bene la sterilizzazione, che sia assicurata per bene il prima e dopo l'intervento al paziente perché il paziente se non c'è l'operatore viene lasciato sul lettino da solo se succede qualche cosa è responsabilità dell'infermiere che l'ha fatto cadere quindi tutte queste cose che non sono prettamente l'intervento in sé per sé sono cose che servono a far mantenere tutto l'assetto della sicurezza e poi la cosa più importante è assicurare queste cose perché un intervento dopo che è stato fatto è stato fatto bene, non ci dobbiamo trovare un'infezione, non ci dobbiamo trovare un problema di antibiotico resistenza che spesso succede in ospedale ci sono delle cose che un direttore di presidio, che tra l'altro è uno specialista in igiene dovrebbe sapere e dovrebbe rettificare in corso d'opera tutte le procedure che esistono per legge devono essere attuate non è che esistono delle cose che uno può fare e non può fare esiste quello che deve essere fatto noi questo chiediamo, che sia assicurata la sicurezza del paziente sia assicurata la sicurezza e il lavoro degli operatori e che non si possa poi dire di chi è la colpa e non si sa di chi è Dopo circa un anno dal conferimento del mandato della dottoressa Morgante vediamo segnali peggiorativi e non migliorativi sicuramente la sanità campana, come ben sapete si trova in uno stato commissariale dal 21 marzo 2009 e non è tutta colpa della dottoressa Morgante però la situazione sta degenerando verso limiti storici con gravi rischi sia per l'utenza sia per l'operatore per cui il numero esiguo di operatori, addetti, infermieri, os, tecnici e quant'altro produce turni formulati con straordinario superiore a 12 ore in dispregio di tutte le norme contrattuali proprio l'altro giorno sono arrivati i carabinieri perché due colleghi dopo 12 ore, anzi tre colleghi dopo 12 ore notturne non riuscivano a smontare e ne avevano diritto la stessa cosa senza l'arrivo dei carabinieri con grande responsabilità dei sanitari di turno si è verificata ieri mattina dove i sanitari si sono assunti la responsabilità di mandare a casa coloro che avevano già svolto 12 ore notturne il personale è scoppiato è inutile che vanno a fare indagini in internet le indagini in internet andassero a fare su cose che sono palesemente illegittime le vostre richieste quest'anno che hai fatto riferimento nessuna delle vostre richieste è stata accolta dalla Morgante? no, le tematiche sarebbero tantissime noi abbiamo addirittura verbali protocolli disaffirmati dalla dottoressa Morgante e la dottoressa Rozzini c'è un verbale di contrattazione decentrata quindi con tutte le sigle presenti dove l'USB fa una proposta e la proposta viene accolta ne abbiamo copie ovviamente questa è il 30 gennaio 30 gennaio, stiamo parlando di 5 mesi fa e il conferimento visto che praticamente i contratti come ben sapete sono ancora tutt'ora bloccati dal 2009 siamo andati indietro economicamente e non avanti c'è una piccola possibilità per un numero sigo vi dico pure oscillante tra 270 e 285 dipendenti di avere una fascia economica superiore che in termini economici significa una media di 50 euro l'or di aumento stipulato all'intesa avete saputo prima anzi abbiamo avuto anche la bozza di regolamento dato che l'abbiamo conferita a 280 persone purtroppo ce ne stanno 500, 400, 500 perché non tutti alcuni di noi siamo al massimo della carriera rimarranno fuori quindi è una cosa che fa male allo stesso sindacato ma quei soldi fanno parte di un fondo che va utilizzato se non la regione se li riprende ma voi lo farete allo stato di agitazione oppure non lo provocare? certo quello provocare di me qual è l'alternativa? io non credo che voi ci possiate suggerire l'alternativa così stante le condizioni che la collega ha ben illustrato e abbiamo ben integrato e quanto una stima del personale che occorrebbe? dipende dai proceduti ci sono degli illeciti per esempio cose che noi riteniamo sono illeciti il conferimento delle posizioni organizzative posizioni organizzative sono delle cose su cui l'USB lotta da anni sono praticamente è un istituto contrattuale che va per determinati compiti di responsabilità cosa succede? viene conferita alla struttura e non al dipendente se io mi sposto da questa stanza a cui viene conferita la posizione e quindi viene riconosciuta una complessità di azioni che si svolgono in questa stanza io i soldi li devo posare là c'è un atto deliberativo dove la dottoressa Morgante ha portato una dipendente con posizione organizzativa in direzione generale e si è portato a presto pure i soldi sottraendolo al distretto di La Tribalda i tecnici della prevenzione questa è una cosa che riguarda pure voi cioè uno di voi potrebbe avere un'attività commerciale ha bisogno di sopralluoghi va bene allora o lo fa attraverso l'ASL oppure lo fa attraverso gli organi certificatori a pagamento c'è un progetto finanziato dalla Regione i tecnici vanno fuori rari di servizio ebbene non prendono i soldi dal 2014